Ai giovani e per i giovani che tipo di misure lei ha in mente per quanto riguarda le possibilità appunto di formarsi e di trovare un lavoro? Faccio qualche esempio di provvedimenti che già abbiamo preso. Ho già accennato all'accelerazione della riforma universitaria che a nostro parere contribuisce a educare più velocemente i giovani senza farli stazionare per anni in università parcheggio. Poi abbiamo creato la possibilità per i giovani di costituire una cosiddetta società semplificata a responsabilità limitata ma soprattutto direi che la finalità principale è quella proprio di ridurre l'apartheid tra chi per caso è già dentro e chi giovane fa una terribile fatica a entrare o se entra entra in condizioni precarie. Grazie.